Le Colombaye è un country resort immerso nel cuore della Toscana, in un magnifico paesaggio di campagna. Con la suggestione dei suoi ambienti interni ed esterni, sarà la location perfetta per il vostro matrimonio. Le Colombaye Country Resort è un antico convento del XVII secolo, recentemente restaurato per offrirvi una struttura elegante e sobria. Al suo interno nel piano terra si trova un magnifico salone per banchetti con volpe a crociera, mattoni a vista e un grande cammino, perfetto per l'organizzazione di ricevimenti in ogni periodo dell'anno. Nel parco che circonda la struttura si trova una grande piscina. Questo magnifico dehors potrà essere lo scenario di un memorabile banchetto all'aperto nei mesi più caldi. Nel giardino delle Colombaye Country Resort potrete inoltre organizzare la vostra cerimonia con rito civile all'americana. Lo staff delle Colombaye avrà cura di ogni dettaglio delle vostre nozze, offrendovi un servizio di organizzazione che comprenderà la musica, le decorazioni floreali, il noleggio dell'auto, il make-up, l'air styling e il servizio di ristorazione. La grande e attrezzata cucina, infatti, sarà a disposizione del catering che potrà preparare in loco le deliziose portate del vostro banchetto nuziale. Arredato con stile e ricercatezza, questo Country Resort toscano donerà al vostro grande giorno una cornice unica.